Anche la cucina con le sue eccellenze e le sue tradizioni può diventare volano di sviluppo di un territorio perché è quello fra enogastronomia, cultura e antiche usanze e un legame fortissimo e il cibo può diventare quindi un veicolo per raccontare la storia e i valori di un popolo. Di questo si è parlato nel terzo appuntamento di Ricostruiamo il territorio, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla valorizzazione delle tradizioni culturali e delle risorse locali organizzata a Bisceglia. Noi come associazione Cooking Solution abbiamo iniziato questo progetto ad aprile del 2024 all'interno di un istituto alberghiero perché riteniamo che formare i professionisti del domani sia la base e la base culturale, la base del nostro lavoro è quello di essere ambasciatori dell'autenticità del territorio. Proprio la cucina ha contribuito allo sviluppo del turismo in Puglia creando valore economico e preservando il patrimonio culturale e gastronomico del territorio. Ci siamo concentrati su quello che è un ecosistema imprenditoriale e un ecosistema regionale e abbiamo compreso come tutti gli attori e gli elementi dell'ecosistema possono effettivamente, se si riescono a instaurare delle relazioni virtuose, possono effettivamente portarci a creare economia da questo punto di vista. Durante l'evento si è discusso di come un prodotto turistico e no gastronomico possa diventare motore di sviluppo sostenibile per le comunità locali, promuovendo un'economia circolare che rispetti le tradizioni, i mestieri artigianali e la cultura del territorio. I nostri prodotti agroalimentari sono i nostri biglietti da visita e sono il motivo anche per il quale ci vengono a trovare e vengono a visitare i turisti soprattutto nelle zone dell'entroterra.